rieccoci qua ragazzi ciao a tutti dal vostro icefreedom e bentornati o benvenuti sul mio canale allora altra video guida trofeo in questione è non premere questo pulsante i dettagli dicono suona il campanello rosso in entrambe le stanze e sopravvivi all'attacco allora questo è l'unico trofeo che non fa parte della campagna principale e per ottenerlo bisogna andare nel museo vediamo qua menu principale c'è il museo e si sblocca solamente dopo aver completato la campagna una volta allora quindi selezioniamo museo eccoci qua ragazzi siamo all'interno del museo vediamo qua ci sono i nostri vari nemici troviamo la cassa delle munizioni quale armi equipaggiate come volete scegliete l'arma e poi andate all'attacco questa è una stanza e poi c'è l'altra stanza che è su in cima di qua eccola qua qua l'altra stanza gli altri nemici e qua ci sono le altre armi con le un po' più pesanti il mitraglione eccetera una volta che siete a posto poi venite qua dove c'è scritto informazioni qua c'è il campanello non tenere premuto ti dice appunto se volete prendere trofeo dovete premere quello lì e poi tutti i nemici che vedete qua dentro vorranno farvi le chiappe rosse ok allora equipaggiatevi e poi partiamo ora andiamo un po' a vedere qua che marcello salta fuori vai quello con lo scudo bastardo lo sono tornato davanti così guarda è carica carica qua la tua arriva ma stardo mi ha fatto il giro Di là è impossibile che viene perchè non ho attivato il pulsante Ehi, te, perché ti nascondi lì dietro? No, te lo attiro io lì sotto il culo Ah, quando finisce la musica, finiti anche i nemici, però non si può sbagliare Ok, facciamo il pieno Di là Vai una granata alì è meglio escapar via ora guarda che bello tosto eh, porca troia! dopo c'è la distesa per terra quella di carica qua beh, il will che è finita, teoria ecco, come in tutto il gioco i trofei non sono immediati ragazzi però è arrivato bella alla grande e anche questo trofeo l'abbiamo fatto la video guida l'abbiamo fatta che dire ci sentiamo nel prossimo video ciao ragazzi statemi bene